Il passante della fase 2, quel passante ero io, procedeva da solo sulla strada deserta alle 9 di sera, di ritorno dal parco. Camminando piano, con tanto di mascherina che gli lasciava scoperti solo gli occhi, c'era ancora un bel chiaro da lunga serata estiva. Il passante della fase 2, che ero sempre io, aveva appena superato un ragazzotto con racchetta da tennis e faccia scoperta che lanciava con forza la palla da tennis contro la nuda parete di una fabbrica dismessa. Il passante della fase 2 era appena passato tra palla e tennista allontanandosi dalla zona affalcata un po' più rapida di prima, perché Borg sudava come un cammello e qualche schizzo del suo pericoloso sudore poteva anche rimbalzarmi sul naso dalla parete della fabbrica sotto forma di palla. Ma intanto il passante non poteva non rallegrarsi nel vedere un ragazzotto pieno di vita e approfittare della libertà della fase 2 per giocare con una semplice pallina da tennis, scaraventata contro la parete di una fabbrica dismessa. Una bella immagine, mentre il passante della fase 2, sempre con la mascherina addosso, alzava gli occhi verso un cielo limpido e appena striato di nuvole leggere, simbolo della libertà di quei giorni che, come scriveva Manzoni, prelodevano al pio colono augurio di più sereno di. Era domenica e quella viuzza di periferia, a 200 metri da casa sua, che poi era casa mia, era l'emblema di una Milano ormai ritiratasi definitivamente in casa da quello schizzo di movida subito sedata che aveva ancora fatto incazzare il sindaco Sala. Ma il passante ora poteva stare tranquillo, libero e felice, pieno di speranza di una nuova fase 3, nella quale avrebbe potuto non solo passeggiare lontano da casa, ma valicare la regione e andare a trovare la sua amorosa, che poi era la mia, una bella bionda che lo aspettava al mare. Ma a un tratto la stradina deserta, accanto alla fabbrica dismessa, quella stradina male asfaltata dove l'ultimo passante era stato un cane randaggio che aveva avuto paura anche della pallina da tennis del ragazzotto, quella via deserta si riempie di un'immagine insolita, la volante dei carabinieri. Strano, dice il passante della fase 2, chissà che cosa ci faranno i carabinieri qua, saranno venuti a prendersi un po' di fresco, la domenica era stata un po' calda. Il passante della fase 2 guarda avanti, rallentando appena un poco, gli hanno detto che quando passa una pattuglia è meglio non provocarli guardandoli con la curiosità e non stimolare il poliziotto che dorme, perché se tu lo fissassi anche più di un secondo potrebbe pensare che cazzo mi guarda questa e magari chiederti i documenti. Ma questi non erano poliziotti, erano carabinieri. Il passante della fase 2 li conosce molto bene, ma non questi due, ma i carabinieri in genere ci ha passato insieme i primi 14 anni della sua vita come figlio del maresciallo capo in caserma. Sono di famiglia. Tanto è che quando la volante, dopo averlo superato, ritorna indietro e rallenta affiancandolo, lui saluta molto gentilmente quello a fianco dell'autista che abbassa il finestrino e lo fissa. Il passante della fase 2, che vede nei due carabinieri quasi dei suoi familiari, facendo di togliersi la mascherina anziché il cappello per salutarli e china il capo alla maniera militare col più gentile buongiorno che possa uscire da una mascherina. Buongiorno, risponde altrettanto gentilmente il carabiniere. La macchina, note il passante della fase 2, ora è perfettamente ferma, a due metri e mezzo da lui. Ma il passante della fase 2, chiaro io, un po' stupito, non si sarebbe meravigliato se dalla macchina fosse partita la domanda ad accendere oppure bella giornata eh professore. Ma non lo conoscevano e non sapevano che era il figlio del marisciallo di Eboli morto trent'anni fa. Posso chiederle se abita da queste parti? Gli dice il carabiniere al fianco dell'autista, che poi era quello più giovane. Guardi, si precipita a dire il passante della fase 2, abito proprio in via Rutilia, a duecento metri. E il passante lo dice con un trasporto tale che sembrava facesse un regalo al carabinieri, anzi aveva il tono del grande scrittore che dice ai carabinieri Ah, mi avete riconosciuto eh? Eh sì, non ve l'aspettavate di trovare l'autore delle maschere del senso in questa stradina di periferia e adesso vi ho indicato anche la via dove abito e c'era da aggiungere quasi. Perché non avete a prendere un caffè a casa mia? Così vi parlo di mio padre, del marisciallo, tra l'altro un vostro superiore. Sapete che a Eboli mi chiamavano il figlio del marisciallo? Nessuno sapeva come mi chiamavo, ma bastava dire sono figlio del marisciallo, mi si spalacavano tutte le porte dei negozi di merendine e dei bar con i gettoni gratis per i flipper. Ah, dice il carabiniere, abita qua attorno. Va bene così. Gli risponde il carabiniere con un mezzo sorriso. E così il passante ha visto la volante mettere in prima e ripartire ad agio ad agio, poi scomparire dietro la curva della fabbrica dismessa. A quel punto il passante della fase 2, che rimanevo io, ha rialzato gli occhi verso il cielo sopra la mascherina e ha notato che le nuvole erano già più scure, anche se ancora meravigliose in quella lunga sera di maggio. Ma se qualcuno avesse incrociato il passante e gli avesse fissato la mascherina, avrebbe notato che questa vibrava un poco, perché il passante della fase 2 stava borbottando qualcosa. E noi, che apparteniamo in questo caso alla razza dei narratori onniscienti come il Manzoni, possiamo riferire le parole che avevano cominciato a gorgogliare sotto la mascherina. Ma con tutta quella feccia di tamarri che bazzica via come il naviglio pavese, senza maschere, sfondati di birra come gli alcolisti anonimi, proprio a me dovono rompere il cazzo. Che non si vede un ratto di fogna a 800 metri, a parte quel pirla che continua imperterito a sparare la palla da tennis contro il muro e sputacchia sudore come un rinoceronte. E comunque quei due a me non la contano giusta. Avano la faccia di chi ha appena mangiato la lasagna con la besciamella, innaffiata per bene con mezzo dell'ambrusco. Ma dai, dai, comunque fanno anche il loro dovere e diciamolo sempre, sempre i miei cugini saranno. L'arma che non si spunta mai, nei secoli, fedele.